Ciao a tutti e bentornati al nostro corso di Tinkercad. Dopo aver visto come si creano gli account andiamo a vedere come si creano le classi. Vi preannuncio che l'elemento identificativo principale è il codice classe come Google Meet o Google Classroom. Andiamo a vedere direttamente come si creano. Questa è la dashboard, il pannello di controllo di Tinkercad del docente. In alto si preme su lezioni, appaio anch'io questa volta. Vedete che ci sono tutte le lezioni create in precedenza ordinate secondo un ordine alfabetico. Non è possibile archiviarne per ora in Tinkercad, so che ci stanno lavorando, utilizzare sotto cartelle. Quindi vi consiglio di utilizzare dei nomi che iniziano ad esempio con l'anno scolastico come faccio io. Per creare una nuova lezione basta cliccare sul tastone azzurro, dovete metterci una classe, ad esempio zero prova mi va benissimo, mettete una classe ed età, ad esempio terza media e tecnologia nel mio caso come argomento quello che vi piace di più. A questo punto potete creare la lezione, la lezione verrà messa proprio per primo in questo caso perché comincia con lo zero in ordine alfabetico, vedete che non ha studenti, c'è la data di creazione e c'è un tastone a fianco che è quello dell'ingranaggio dove potete rimettere quelle che sono le informazioni che avete appena messo in fase di creazione. Potete anche eliminare la classe, in questo caso eliminate da lì e salvate le modifiche. Noi non interessa eliminarle, andiamo a vedere all'interno cliccandoci sopra anche sul nome, cosa si vede? Si vede che l'aula è completamente vuota, ci sono anche comunque dei tasti interessanti, non solo gli studenti, andiamo a vedere prima di tutto il codice classe. Il codice classe eccolo qua in tutta la sua bellezza grandezza è il codice da copiare e da dare agli studenti per entrare, si può copiare semplicemente cliccando questo pulsante o si può dare anche la copia del collegamento che non è altro che questo link che permette agli studenti senza passare dalla home page di Tinkercad di andare direttamente al link della propria classe, in questo caso copiate il collegamento. Torniamo alle nostre lezioni, altre cose che si possono vedere, i progetti che ci sono dentro, le attività, ma questo lo vedremo meglio successivamente. A noi interessa adesso vedere di aggiungere degli studenti, ma che tipologie di studenti ci sono? Le tipologie di studenti sono tendenzialmente di due tipi, la prima è quella di tipo postazione che è quello più semplice e l'altra è quella di tipo account, ecco mi tiro via così lo vedete meglio. Account di tipo postazione, intanto il docente deve creare una postazione per ogni singolo ragazzo ed è anche un po' lunghettina, ma soprattutto deve fornire ad ogni ragazzo il nickname che è un eave con una sorta di password e poi il codice classe che invece è uguale per tutti i partecipanti alla classe. Andiamo a vedere quindi come inserire degli studenti di tipo sheet. Pagina della nostra classe, zero prova, tastone aggiungi studenti, ne aggiungiamo uno ad esempio mettiamo cognome 1, nome 1, vedete che il soprannome viene creato in maniera automatica anche dal software, potrebbe andarvi bene o cambiare anche qualcosa, fate quello che volete, salviamo le modifiche, in questo caso torniamo alla lezione e vedete che qui finalmente si inseriscono i nomi di quelli che sono i futuri studenti, futuri sì perché come si vede da questa iconcina che è grigia e poi diventerà azzurra, invece gli studenti devono ancora fare l'accesso alla classe. Se devo fare una postazione per gli studenti la classe molto numerosa potrebbe essere un processo un po' lungo e noioso. Vi consiglio di utilizzare un altro metodo, se avete una lista di studenti come in questo caso copiate nome e cognome, riportiamo via LibreOffice e aggiungendo i studenti invece di mettere uno a uno incolliamo un elenco di studenti, ci digitate sopra, tasto destro incolla, ecco i sette studenti che sono stati inseriti, aggiungo i sette studenti e mi ritrovo all'interno della classe, quindi un processo sicuramente migliore. L'unica cosa che possiamo fare qui è cancellare gli studenti, come vedete elimina studenti o potete fare tutto questo in un unico colpo cliccando, selezionando il cerchietto sopra i nomi e selezionando l'azione. In questo caso non c'è niente da fare, andiamo a vedere cosa succede, deselezioniamo adesso, andiamo a vedere cosa succede da lato studente, andiamo a verificare quello che succede in uno studente tipo che deve ancora fare il login per la prima volta, lui si presenta davanti al sito alla home di Tinkercad, può partecipare a una lezione, in questo caso gli viene fuori la finestra di dialogo che gli dice di mettere dentro prima di tutto il codice della classe. Torniamo a vedere il codice classe, siamo adesso da parte del docente, andiamo a vedere il codice classe, era questo, copia codice e noi lo copiamo esattamente qua sopra. In questo caso c'è uno spazio in più, scusate, vado alla mia lezione e posso partecipare con il soprannome. Qui adesso mi serve il soprannome che è stato affidato dal docente allo studente ed è univoco. Per arrivare in questa pagina della classe, potevate anche fare in un metodo un po' più veloce, apriamo una nuova finestra, siamo qui da parte dello studente nella classe, nel codice classe, invece di copiare il codice copiamo il collegamento, torniamo di là, incolliamo direttamente e vai al collegamento dato. In questo caso vedete che vi ritrovate direttamente, giusto per farvi vedere, eccolo qua, nella stessa identica finestra di dialogo. Entriamo dentro, torniamo qui, non mi ricordo nessun codice per cui vado a copiarmelo, ad esempio facciamo mettere dentro Ugo Do, Ugo Do mi è simpatico, vediamo qua, qui è l'informazione d'accesso, ve lo copio con quel tastino lì, torno lì, lo incollo e dico che sono io a questo punto Ugo Do finalmente è entrato nella propria dashboard e può partecipare. Cosa vede nel frattempo il nostro insegnante? Dopo qualche minuto, e se volete accelerare facciamo un refresh con F5, vedrà, ecco il refresh, che il nostro Ugo Do è entrato dentro e qui finalmente vedete che l'iconcina è più azzura e potete farci anche qualcos'altro, ad esempio potete mettere più o meno in sicurezza l'account degli studenti, con questo lo si fa per tutti gli studenti. Cosa vuol dire mettere in sicurezza? Tinkercad è sicuramente un luogo molto sicuro, l'unica cosa che gli studenti potrebbero fare e avere accesso a persone esterne alla classe è attraverso la galleria, vi faccio vedere, andate in galleria, aprite qualsiasi cosa della galleria, qui dentro ci sono i commenti, entrando nei commenti si vedono, si possono vedere anche altri utenti e si può rimanere in contatto attraverso i commenti con questi. Se non vogliamo che questo succeda, torniamo indietro, lasciamo l'iconcina sicuro accesa, nel senso che questa qua limiterà proprio tutti quelli che sono i commenti e non vedranno gli utenti chi è l'autore, non potranno contattare l'autore degli elementi o dei modelli in galleria, quindi è tutto molto più sicuro. Andiamo a vedere ancora da Ugo Do, facciamo finta di creare un nuovo progetto, quindi uno spoilerone, vediamo subito come è fatta l'interfaccia di Tinkercad, molto semplice, facciamo un progettino velocissimo e scrivo Ugo progetto 1, me lo salvo, torno nella mia dashboard del nostro Ugo, eccolo qua che si vede in tutta la sua bellezza il nostro cubetto, andiamo a vedere cosa vede invece l'insegnante, siamo tornati dell'insegnante, andiamo a vedere cosa si può vedere, l'insegnante può vedere progetti, in questo caso vede solo i progetti di Ugo perché è l'unico che è entrato nella classe e anche le attività, nel momento che vedo le attività è un modo molto veloce per andare a vedere cosa ha combinato in maniera precisa il nostro Ugo, posso andare in modifica, accedete direttamente come fosse esattamente nell'account di Ugo a quello che ha fatto Ugo, addirittura potete modificarglielo, gli modificate l'oggetto e gli dite va bene Ugo tutto a posto, adesso torniamo lì, anzi sono tornato direttamente in bacheca, scusate era meglio tornare direttamente alle lezioni però eccolo lì, adesso il nostro Ugo, posso andare a cliccarci sopra, vedrò cosa ha combinato Ugo e vedete che quello che è l'oggetto è stato modificato dal docente, è molto utile questo per andare poi a verificare e per valutare anche i lavori fatti dagli studenti, quindi questo si fa attraverso, abbiamo visto la parte della lezione, vi faccio vedere, che si chiama attività, è anche possibile bloccare un utente, bloccare su questo progetto qui, nel senso che dico va bene perché mi serve bloccarlo, perché adesso io te lo blocco, non puoi modificarlo in maniera successiva, blocco questo elemento, sì lo blocco e andiamo a vedere che Ugo, adesso facciamo l'F5, non ha più accesso al progetto, al solido che ha creato perché in questa maniera è stato bloccato, frizzato dall'insegnante e perché è stato consegnato ad esempio. Altra cosa che potete fare, torniamo dal docente, ripristiniamo il lavoro di Ugo con questo sblocca, intanto il lavoro potete vederlo sia in attività e quindi con questo modifica modificarlo, come abbiamo visto, o anche in progetti. In progetti c'è anche un'anteprima, avete tre tasti in realtà, uno è quello del modifica che non è nient'altro che il modifica delle attività, questo che è quello delle opzioni, questo ingranaggio e il tasto centrale che di per sé li concina, vi aprirà un'altra finestra di dialogo, li vediamo uno alla volta, allora torniamo in modifica questo, io passo sempre da attività perché in questo caso questo modifica mi apre una seconda finestra ed è più facile per me gestirla. La cosa che potete fare è anche quello di aggiungere alcune note, alcune note scritte che possono essere utili, ad esempio cambia misura, potete salvarla, potete anche cancellarla nel momento che non serve più, il ragazzo poi può più o meno vederla e tenerle aperte perché magari possono dar fastidio a un certo punto e questo può essere molto utile per dare delle indicazioni, come avete visto l'ho aperto con il modifica per cui mi basta chiudere questa finestra per tornare alla finestra di dialogo precedente. In progetti dicevamo c'è anche questa finestra opzioni dove posso vedere alcune proprietà che servono relativamente, posso cambiare alcune cose di privacy soprattutto, ma soprattutto posso duplicarlo per il ragazzo potrebbe essere, ma anche per l'insegnante, ma se clicco su quella centrale mi apre un'altra finestra di dialogo, è una finestra dove c'è scritto copia e modifica, che differenza c'è? In questo caso se io lo copio e modifico il file si apre, ma come copia nel momento che io l'ho modificato, tornando alla baccheca del professore o del docente mi si trova come un mio progetto, quando è utile questa cosa qua, quando un progetto particolarmente meritevole può essere passato direttamente alla stampa 3D e magari deve essere modificato solo di alcune parti e quindi vi conviene ricopiarvelo, metterlo a posto per la stampa e poi magari stamparlo e regalarlo allo studente. Allo studente di per sé dovrebbe arrivare, faccio un F5, una notifica, eccola qua, la vedete qui, dove vi dice che, non so perché quanti sono venuti fuori tre nelle mie prove, però vi dice che il professore furbetto vi ha copiato il lavoro, giusto per essere chiari con tutti, soprattutto anche per chi inizialmente ha creato l'oggetto come lo studente. Questo è un po' il tutto per quello che riguarda lo studente di tipo sito, andiamo a vederne, giusto per riassumere, alcuni pro e contro. Però prima di tutto se lo studente perde le credenziali, il docente le ha creato, le possiede, può facilmente ridarle allo studente stesso. Dopodiché il regolamento per cui riguarda la privacy, o meglio la protezione dei dati di istituto, in questo caso viene sicuramente rispettata perché non vengono utilizzati nemmeno dati sensibili, nemmeno dati personali, addirittura potrebbe essere possibile creare degli studenti mettendo dei nickname, posto del nome e cognome. Dopodiché passiamo invece ai contro, il primo dei quali è sicuramente il più grave, è che se il docente cancella la classe, lo studente non può più accedere al proprio account e quindi perde di conseguenza tutto quello che è il lavoro fatto precedentemente. L'account di per sé da Autodesk non viene cancellato ed è stato dichiarato dalla stessa Factory che a breve sarà possibile per lo studente a cui viene cancellata una classe, entro un tot di tempo passare un account diverso. Altro contro, ma che sono una scomodità, è che lo studente che possiede più classi virtuali interno di Tincrica deve sempre uscire e rientrare per ogni classe che ha con questo tipo di utenza. Non è qualcosa di difficile o di solo scomodo, andiamo a vedere invece quello che è l'utente tipo. L'utente tipo è un utente under 14 perché non possiede mail e quindi non può avere altri tipi di account. Un utente che ha più di 14 anni ma che non vuole usare o che non possiede una mail o comunque tutti quegli utenti che il docente ritiene facilmente perdono le password o le credenziali. Questo quindi un tour veloce perché riguarda l'utente di tipo postazione. Vediamo adesso invece lo studente di tipo account. Allora intanto lo studente entra col proprio account Autodesk, abbiamo visto proprio la puntata precedente come crearne uno e poi il docente in questo caso deve solo fornire il codice classe che è unico per tutta la classe. Andiamo a vedere come gestirlo. Intanto qui vi presento un account studentelogin01 fittizio che ho creato come fosse uno studente. Andiamo a vedere come ci si scrive da studenti. Torniamo invece a vedere qual è il codice classe che ho dimenticato. Questa è la classe zero prova. Il codice classe è questo. Mi copio il codice che dopo fornirò alla classe stessa. Vado dallo studente. Sulla sinistra vedete che in questa finestra c'è anche il pulsante le tue lezioni e qui c'è partecipa ad una lezione. Vi chiedono il codice proprio di quella classe. Entrate dentro. Ogni volta che copiate c'è sempre lo spazio in più. Vai alla mia lezione. Sono io? Certo che sono io. E finalmente vedete che lo studente partecipa alla classe. Lo vedete perché qua c'è la lista delle classi a cui partecipare perché lo studente potrebbe parteciparne più di uno con lo stesso account. In questo caso andiamo a vedere invece dal lato del docente. Il lato docente facciamo un F5 per accelerare un attimo. Vedete che il nostro studente è qui e partecipa esattamente come tutti gli altri. Solo che qua vediamo che il tipo di account è un tipo di account proprio e non sit. Allora andiamo a vedere velocemente quali sono i pro. I pro sono che intanto se cancello la classe da parte del docente lo studente non ha nessuna ripercussione, mantiene tutti i suoi lavori. Con lo stesso account abbiamo visto pondare in varie classi. Quali sono i contro? Sono un po' quelli che erano i pregi da parte dell'account invece postazione. Quando si dimentica un nickname è più difficile ricrearlo o meglio ritornare ad avere le credenziali perché in realtà il docente non può aiutarlo perché non possiede quelle credenziali. Deve essere fatto tutto un passaggio di ho dimenticato la password sul sito di Autodesk e così. E poi il regolamento di istituto dovete guardare con più attenzione perché in questa maniera entrate con un login all'interno dell'istituto soprattutto se usate ad esempio l'account Google o Microsoft di istituto comunque in ogni caso consiglio vivamente di creare un'informativa apposita per cui riguarda l'utilizzo del software da dare ai genitori. E poi quali sono gli utenti tipo a cui dare questo tipo di account? Sono quegli utenti che tanto sono maggiori hanno più di 14 anni e possiedono una mail e o quelli che non ne hanno ancora 14 ma hanno una mail istituto sempre che l'informativa prevede l'utilizzo della mail istituto per questa ragione e poi gli account under 13 che in realtà sono gestiti come abbiamo visto l'altra volta in maniera totale dai genitori dei ragazzi stessi. Questo è un po' il tutto per quel che riguarda questa puntata sulla classe sulla gestione della classe e degli vari tipi di utenti classe che ci sono in Tinkercad. Vi do l'appuntamento per la prossima puntata. Ci vediamo a breve. Ciao ciao! Ciao!